Un viaggio attraverso alcune delle bellezze architettoniche della Sicilia e delle opere artistiche di ogni epoca alla scoperta di forme, volumi e materiali da compiere attraverso il tatto e la vista. E' il museo tattile che oggi ha fatto tappa a Gela. Su iniziativa della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti c'era anche il giardino sensoriale ed il bar al buio. Un vero e proprio polo tattile itinerante. Una giornata di sensibilizzazione, condivisione e conoscenza sul mondo della città che mira a divulgare il messaggio di integrazione possibile tra vedenti e non vedenti. Di solito le arti non si possono toccare ma si possono solo guardare. Oggi è rigoroso toccare con mano perché abbiamo delle arti che i non vedenti, magari un monumento che immaginavano, riportato in rilievo e quindi diamo la possibilità ai non vedenti di poter toccare con mano una scultura o qualcosa e farsi una propria idea. Quindi dare alla gente, far capire che i non vedenti non hanno limiti, possono arrivare ovunque con le mani. Giriamo tutta l'Italia proprio a divulgare e a far capire alla gente qual è il mondo dei non vedenti proprio per far sensibilizzare la gente che i non vedenti non sono più quelli di una volta ma oggi sono abbastanza emancipati. Il motto è vietato non toccare, nel senso che qui si deve toccare tutto, si deve esplorare. Noi incentiviamo intanto una giornata di sensibilizzazione, di condivisione e soprattutto di scoperta del mondo della disabilità visiva perché c'è purtroppo poca conoscenza. Abbiamo invitato tutti, le istituzioni, le scuole, ma soprattutto le scuole perché ogni ragazzo potrebbe avere a fianco un ragazzino con la disabilità visiva quindi conoscere i materiali didattici, conoscere anche gli ausili che utono il non vedente nella vita quotidiana è importantissimo. All'iniziativa di oggi hanno preso parte numerosi studenti. All'inizio ho avuto un pochino di paura perché mi tiravano, non sapevo dove dovevo andare però alla fine è stato bello perché ho capito veramente cosa si prova e le emozioni che si possono vivere in quel momento e quindi che si devono utilizzare cioè la vista non è per forza fondamentale ma quindi dobbiamo anche utilizzare gli altri sensi.